Il futuro della sanità, la revisione della legge regionale 23 sotto la lente del Consiglio Generale della CIS di Sondrio, che si è riunito a Forcola. Purtroppo, si legge una nota diffusa dal sindacato, la strutturale carenza a livello nazionale delle professionalità del settore assume tratti drammatici nella nostra provincia. Problema che, secondo la CIS, la potrebbe addirittura portare all'impossibilità di garantire l'erogazione di alcune prestazioni. Il compito che i rappresentanti locali di istituzioni, delle associazioni della politica, a partire dai sindaci, sono chiamati a svolgere, prosegue il sindacato, è promuovere il protagonismo del territorio nel dibattito che in questi mesi precederà la legge affinché la regione Lombardia tenga debitamente in considerazione la specificità montana. Il tempo stringe, sottolinea la CIS, già da settembre la regione deve obbligatoriamente individuare le sedi fisiche per la realizzazione di presidi di prossimità finanziati dalla PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.